In ascesa le quotazioni di Nicola Rauti per il tridente che Gaetano Oteri manderà in campo domenica alle 14.30 all'Atletico Cornacchia contro la Lucchese. Il giocatore di Provetà del Torino, proprio nell'ultimo match di campionato contro il Pontadera, ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Pescara. Rete di pregevole fattura, fatta con la determinazione di chi vuole incidere nonostante le difficoltà. Anche per questo che l'ex palermitano potrebbe soffiare la maglia a un Dursi sempre più indolente dal grande talento, finora però inespresso. Al centro dell'attacco ci sarà Ferrari, mentre a destra Oteri avrà alcuni dubbi, Galano non è al 100%. Clemenza continua a convincere poco, talento cristallino ma poco propenso alla lotta quando si alza il tenore agonistico della partita. Da verificare Chiarella, che non ha certo i 90 minuti nelle gambe, ma che potrà essere utile dall'inizio o in corso d'opera. Oteri tornerà al suo modulo prediletto, il 3-4-3, con Pompetti e Memuscei favoriti per comporre la coppia di centrocampo. Il tecnico potrebbe riaffidarsi alle certezze di inizio stagione con Zappella sulla destra e Cancellotti-Braccetto nel trio di difesa, completato da Drudi e Ingrosso. Sul fronte lucchese due sono gli interrogativi per il tecnico Guido Pagliuca per il suo 4-3-1-2. La sostituzione di Eclu a centrocampo, per la quale sono in ballo il rientrante Frigerio, Picchi e l'ex aquilano Benzaia. E la possibilità di impiegare il giocatore di maggior talento, Semprini, che ha appena recuperato da un infortunio ed è in ballottaggio con Nannini. Direzione di gara affidata a Bogdan, Nicola e Sfira della sezione di Pordenone. Originario della Romania non ha mai diretto il Pescara, mentre ha tre precedenti, tutti in trasferta con la lucchese, con altrettanti pareggi, tutti per 1-1. Due in serie C contro Pro Sesto e Piacenza, uno in serie D col Ghivizzano. Pescara-Lucchese è una partita che manca all'Adriatico dal 2 settembre del 2007, quando i rossoneri di Piero Braglia si imposero 0-3 contro un Pescara partito tardi e allestito in pochi giorni dal DS Nucifora. Fu quello il debutto in panchina per Franco Lerda. Con la lucchese, l'ultima vittoria del Pescara all'Adriatico risale al 12 ottobre 1997, quando l'11 di Maurizio Viscidi si impose in rimonta sui toscani di Decagno, 2-1, con i centri di Palladini, Cammarata e Vannucchi. In generale a Pescara ci sono quattro vittorie del Delfino a fronte di tre pareggi e tre sconfitte. Grazie a tutti.